Bene. Abbiamo visto che la distribuzione di probabilità delle precipitazioni estreme è descritta dalla Generalized Extreme Value Function. C'è un problema, ci sono vari problemi anzi, di cui adesso vi illustro alcuni aspetti. Per esempio questa è una serie di precipitazioni, in questo caso giornaliere, daily rainfall, e i massimi sono segnati con un puntino rosso. Ce ne sono tanti, ma non sono tutti i dati. Questi sono, come vedete, più di 100 anni di dati. Abbiamo quindi tanti dati quanti sono gli anni. La statistica che noi facciamo con la Generalized Extreme Value Function è su questi 100 dati. Quindi, molto spesso saremmo meno fortunati di così. Voi avrete molto meno dati. Magari avrete 30 dati. Allora, un'idea sarebbe, invece di considerare i massimi annuali, di considerare una cosa un po' diversa, di considerare i valori che superano una certa soglia, quella che si chiama threshold in inglese. Qui, i valori delle eccedenze, non si distingue molto bene il puntino dalla crocetta, quindi ho i valori sopra una certa soglia. Come vedete, a questo punto compaiono molti più valori, che per un'analisi statistica è una cosa positiva, perché ho più elementi su cui valutare il sistema. Come vedete, questi disegni sono tratti da una tesi di dottorato che si è appena conclusa a Padova e che è della dottoressa Miniusi e con il supervisor Marco Marani. Cosa succede se faccio tendere a zero la soglia? Bene, con la soglia ho tutti i dati. In questo caso ho una miriade di dati. Quindi una prima idea è cerchiamo di trovare una distribuzione che abbia più valori, perché c'è anche da dire che la convergenza dei dati verso una distribuzione avviene quando io ho tanti dati. Se io ho solo i massimi di una serie di 100 anni, è anche possibile che questi dati non si adattino bene alla mia distribuzione teorica, perché non ho un campione sufficientemente lungo. E come vi dico, nella maggior parte dei casi le registrazioni sono veramente più corte di 100 anni. E quindi cerco di utilizzare tutti i dati per calcolare gli estremi. Una soluzione a questo problema che è stata trovata recentemente, in particolare in questo lavoro di Marani e di Ignacolo, è di introdurre una nuova distribuzione che si chiama Metastatistical Extreme Value Distribution, la quale si fonda sull'idea di utilizzare tutti i dati presenti, assumendo ovviamente che sia le precipitazioni estreme che le precipitazioni normali provengono da una stessa distribuzione statistica, cosa che naturalmente non è garantita a priori, ma sulla quale comunque si può ragionare. Se questo passaggio si può fare, almeno fino a una certa soglia, quello che succede è che abbiamo molti più dati a disposizione, le nostre statistiche sono più robuste e si ottengono risultati migliori. In effetti, quando voi andate a calcolare la distribuzione di probabilità, il vostro range di distribuzione è suddiviso in due parti. Una parte, quello che vedete segnata in bianco, che è l'intervallo dove avete dei dati. I punti in rosso è l'Empirical Cumulative Distribution Function, la curva invece interpolante è per esempio potrebbe essere la GEV. Fino a che siete in questo intervallo, voi siete nell'ambito di dati che avete misurati. Si parla quindi di interpolazione dei dati. In qualche modo l'interpolazione è ritenuta più sicura delle estrapolazioni. Tuttavia, molto spesso noi siamo nel campo delle estrapolazioni, cioè siamo in un intervallo della curva di distribuzione, che tra l'altro, come vedete qui, è confinata in una piccolissima porzione del grafico, molto in alto. Il valore con 500 anni di tempo di ritorno è praticamente indistinguibile dal valore 1. in questo grafico, ma anche nei dati questo succede. Un piccolo spostamento può portare a grandi variazioni sui tempi di ritorno. Quindi, nell'ambito delle estrapolazioni, se le nostre curve non sono robuste, possono portare ad errori molto grandi e conseguentemente anche a valutazioni errate poi in campo ingegneristico. L'idea sostanziale è quella che nell'intera serie di dati, vedete le due barrette gialle qui, di separare i dati di un anno. Per ogni anno costruire una statistica della distribuzione e poi fare una certa media delle statistiche. Ripeto la procedura. Prendo tutta la serie temporale. Per ogni calcolo, per ogni anno calcolo la distribuzione delle precipitazioni. In questo caso, non precipitazioni estreme come in precedenza, ma solo, ma tutte le precipitazioni che ho. faccio la media delle distribuzioni, o meglio, faccio una certa media delle distribuzioni, perché poi vedremo che le distribuzioni le pesiamo. Questa speciale media delle distribuzioni sarà la distribuzione degli estremi. C'è ovviamente un apparato teorico dietro a questa conclusione. Io qui vi illustro solo la ricetta. perché poi è possibile che vi chiediamo di fare questa analisi che ha anche uno scopo molto pratico, cioè quella di farvi considerare tutto l'insieme dei dati e non solo una serie di dati che derivano da una tabella corta di andare a considerare quindi delle serie temporali complete, di poter anche capire come maneggiare le serie temporali e cose di questo tipo. In questo caso come interpoliamo, che distribuzione interpoliamo per le precipitazioni ordinarie? Per esempio, gli autori che vi ho appena citato hanno usato una curva di Weibull. Prima avete visto nella lezione precedente la densità di probabilità della curva di Weibull. Qui invece vi rappresento la distribuzione cumulata o la distribuzione di probabilità vera e propria che è 1 meno l'esponenziale di x diviso c elevato a w, dove c e w sono due parametri. In questo caso la curva ha due parametri. Quindi dobbiamo interpolare per i dati di un anno una curva a due parametri, c e w. come facciamo ad interpolare e a determinare questi due parametri? Per esempio con il metodo dei momenti o per esempio con il metodo della massima verosimiglianza o per esempio con il metodo dei minimi quadrati. Ci sono degli altri metodi e non è escluso che quando andremo a considerare questo tipo di analisi nella parte di laboratorio non è escluso che introdurrò degli altri metodi di stima dei parametri. Con le precipitazioni di un anno determino quindi i parametri c e w. Ripeto l'operazione per tutti gli anni per esempio in questo caso siccome ho più di 100 anni di precipitazioni faccio 100 di queste operazioni è ovvio che se non so farlo in maniera opportuna con un computer queste operazioni diventano molto e molto pesanti e devo fare necessariamente creando un piccolo programmino al computer. Una volta che io ho queste w la mia distribuzione degli estremi è la media delle singole distribuzioni elevate alla nj dove nj è il numero di eventi nell'anno giaiesimo cosa sono il numero degli eventi nell'anno giaiesimo sono gli elementi qui segnati in rosso che dipendono dalla soglia che scegliamo o potrebbero essere tutti gli eventi comunque anche qui tutti gli eventi segnati in rosso se la soglia è nulla quindi se un problema può sorgere nel se noi abbiamo tanti eventi nj poiché una distribuzione di probabilità contiene dei numeri sempre inferiori a 1 elevandolo a nj diventano dei termini molto molto vicini a 0 e il numero n grande invece è il numero di anni su cui andiamo a sommare quindi da 1 a n grande il numero di anni sommo queste quantità metto queste funzioni e ottengo la mia distribuzione di probabilità dal punto di vista grafico quello che che avviene è quello che è rappresentato nel grafico in basso vedete nella sulla sinistra del grafico vedete delle curve di probabilità che sono disegnate in qualche modo a rovescio rispetto a quello nel modo in cui le ho disegnate io per ogni anno ho una curva di probabilità diversa la MEV è una certa media di queste curve di distribuzione che vedete segnate in rosso qui sul fronte dal punto di vista dei concetti non è così difficile qui prendo la mia naturalmente al posto della mia distribuzione W di Viable devo mettere dentro l'espressione della distribuzione di Viable così la vera espressione della mia curva MEV è questa che vedete rappresentata qui qui i parametri cj vj nj esistono perché si riferiscono all'interpolazione fatta in un preciso e singolo anno e quindi ho tanti parametri diversi se sono in una zona molto arida che cosa succede ho pochi eventi durante un anno e quindi la statistica è poco robusta allora invece di fare andare la sommatoria su tutti gli anni possono per esempio prendere un gruppo di anni per esempio due anni tre anni quattro anni cinque anni soprattutto se ho una serie lunga di dati e farmi una stima della MEV in questo modo cioè in questo caso j non va da 1 ad n grande ma va ad un numero m che dipende dalla suddivisione che io ho fatto della mia serie temporale questo è interessante perché utilizzando tutti i dati si possono trarre delle conclusioni maggiormente robuste anche nel caso di serie temporali che sono che sono corte e non sono lunghe e quindi magari tenteremo dei primi esperimenti con i vostri esercizi nel calcolo della MEV direi che a questo punto ho finito con la parte teorica e possiamo chiudere questa parte con i vostri esercizi con i vostri esercizi